Ecco, sono in questo punto qua, dietro delle grate, e inquadro ugualmente lo splendore del sole. E mi viene in mente una cosa, come è difficile riuscire a capire la vita dietro le grate dell'ignoranza. È l'ignoranza che ci impedisce di vedere meglio, oltre le apparenze, e vivere veramente la vita. Grazie.